mister brignoli un derby sempre un derby su un campo pesante poi assume forse un significato ancora più bello ancora più più agonistico si può dire però sotto questo punto di vista che forse ha vinto la squadra che aveva più più fame oggi pomeriggio ma si ha avuto più fame abbiamo avuto sin dall'inizio abbiamo messo la partita sui binari giusti anche se l'errore di florian è stato un po diciamo che abbiamo reagito subito bene è regito bene abbiamo sia ripartiti giocando le nostre trame di gioco le abbiamo espresse sul campo poi comunque con giocatori sanno già loro cosa fare cioè io veramente faccio veramente poco per cerco di strigliarli un pochettino dal punto di vista caratteriale perché poi tecnicamente sanno già loro cosa fare quindi veramente faccio veramente poco praticamente si è andato un po sull'onda lunga rispetto al triangolare che abbiamo visto a cairo montenotte con muteri dietro le punte però con questa voglia con questa determinazione si può anche una squadra permettere da neopromossa magari piazza regista e anche lavoro delle mezzali sotto questo punto di vista è stato veramente molto prezioso molto prezioso ha fatto quello che gli ho chiesto le uscite le avevamo preparate loro sono hanno hanno gamba due mediani che hanno gamba come gasco di lorenzo veramente mi liberano le linee di passaggio di piazza che c'è in queste categorie quando non ce n'è purtroppo lui per varie vicissitudini non ha potuto vivere calcio professionistico ad alti livelli ma poi con lui vertice basso uteri vertice alto e lì ci divertiamo diciamo che ci divertiamo tecnicamente non sono inferiore a nessuno sarà un'annata lunga e comunque ho anche altre soluzioni altri cambi da poter mettere in quei ruoli lì però sono due giocatori che comunque loro mi fanno veramente la differenza a livello numerico manca ancora qualcosina dietro dopo la partenza di prudente però a conti fatti viola e gagliardo hanno fatto un'ottima partita ti rimporta alla fine interventi di metà anni se non se ne contano qualche punizione da fuori del cereale un paio di conclusioni del primo tempo al treniere marconi se non ricordo ma diciamo che hanno fatto una gran partita ha fatto una gran partita viola so benissimo che può giocare sia esterno che centrale e se la società mi vuol fare un innesto in più in difesa dopo la partenza di prudente ben accetto però come rosa siamo già abbastanza ampi è un'ampia rosa la mia e mi hanno messo a disposizione i giocatori che avevo chiesto vedremo se ci sarà un'occasione non ce la faremo scappare penso però sono contento così veramente hanno una coesione questi ragazzi incredibili pensavo fosse difficile il discorso ex compagno di squadra e ora allenatore invece sono stati veramente intelligenti era forse più difficile per loro di staccare le cose e sono stati veramente intelligenti di loro a seguirmi le mie idee non penso che siano difficili da capire il calcio è un gioco semplice bisogna farlo sembrare semplice per ora ci stanno riuscendo l'ultima mister abbiamo parlato di centrocampo e difesa in attacco abbiamo visto veramente grande sacrificio milazzo anche soprattutto carparelli che insomma è sempre sempre un buon esempio e il gol nel finale è stato forse il premio più meritato si è stata la ciliegina sulla torta di una partita di sacrificio di marco marco è un giocatore che deve essere un esempio per tutti e milazzo deve imparare da lui il lazzo ha avuto un'occasione che se è più furbo probabilmente li potrebbero li potevano fischiare un rigore e deve imparare tanto da marco perché marco un esempio veramente per tutti a sacrificio corsa nonostante a 44 anni e sinceramente ce ne fossero giocatori come lui